Sarà ancora unica Ilari Blasi, protagonista di un nuovo documentario sulla sua vita che racconterà il dopo Francesco Totti, gli affetti, la rinascita della con... Se qualche giorno fa Today aveva lanciato l'esclusiva sul progetto televisivo fino ad allora Top Secret, oggi il settimanale che aggiunge dettagli e altre immagini che mostrano Ilari ancora... Se qualche giorno fa Today aveva lanciato l'esclusiva sul progetto televisivo fino ad allora Top Secret, oggi il settimanale che aggiunge dettagli e altre immagini che mostrano Ilari ancora... Se qualche giorno fa Today aveva lanciato l'esclusiva sul progetto, una delle chiavi di lettura di Unica, si legge, è che Blasi si è circondata da persone che le vogliono bene e la sostengono, aiutandola a scoprire cosa ci sia sotto a tutto ciò che non torna. Lunedì 8 luglio Ilari tornerà in tv al timone di battiti live su canale C. Intanto la causa di separazione e di divorzio da Francesco Totti sarà un percorso lungo scrive il settimanale che aggiunge anche un dettaglio sulla strategia legale degli avvocati della conduttrice, Ilari, come spesso accade in questi casi, ha fatto richiesta. Sarà un percorso la curiosità e come mai non l'abbia fatta Totti, visto che il capitano sta portando avanti progetti di famiglia con Noemi. Intanto entrambi gli ex, forse su consiglio dei rispettivi avvocati, hanno eliminato dai loro account ogni foto e riferimento ai rispettivi partner, Bocchi per lui, appunto, e intanto entrambi. Una strategia che probabilmente potrebbe agevolare entrambi nel prosieguo della causa che dovrà definire anche la gestione di un ingento. Come si legge su Altalex, la sentenza non definitiva di separazione o divorzio può essere emessa dal tribunale in presenza di determinate circostanze.